La pandemia di Covid-19, come mai prima, ha costretto milioni di persone in tutta Europa e in tutto il mondo a servirsi di Internet quotidianamente, sia per motivi di lavoro, di studio, ma anche semplicemente per fare la spesa o per comunicare con i propri cari. Questo però non è accaduto per tutti. La pandemia ha messo in evidenza delle fratture sociali che prima non erano così evidenti e delle questioni sociali che pensavamo non fossero così urgenti da affrontare. La mancanza di accesso a Internet per ragioni geografiche, economiche e sociali si è rivelata una delle principali cause di emarginazione. Il Covid-19 lo ha reso lampante, la digitalizzazione non aspetta, la questione non è se avverrà, ma se questo succederà per tutti. Il principio della neutralità della rete gioca un ruolo chiave in questo contesto, perché è naturale che ogni bit che circola su Internet deve essere trattato allo stesso modo. Il Parlamento europeo è il principale attore globale e siamo impegnati per la salvaguardia di questo principio fondamentale. Ma dobbiamo andare anche oltre. Per non essere fonte di disuguaglianza, l'accesso a Internet deve essere basato su regole che ne garantiscano l'equità. Internet non è solo una tecnologia, è un sinonimo di conoscenza, di opportunità, di rafforzamento dell'autonomia. È una parte essenziale della vita del mondo di oggi. Questo vale per la difesa dei diritti individuali. Nelle questioni che Internet, la società contemporanea e la tecnologia ci pongono costantemente nella difesa dei valori fondamentali con cui affrontiamo anche questa crisi. Dobbiamo arrivare a pensare ad Internet non in termini di piattaforme o algoritmi, ma piuttosto in termini di diritti. L'obiettivo deve essere quello di garantire la trasparenza e la disponibilità delle informazioni, in modo che tutti possano capire e prendere decisioni da soli, autonomamente, senza essere guidati dalle logiche consumistiche della rete. Per questo ci battiamo affinché l'accesso a Internet venga riconosciuto come un nuovo diritto umano. Faremo in modo che questo sia uno degli obiettivi per il 2030, fissati dalla Commissione europea, ma non solo. Sosterremo questa necessità anche con una serie di iniziative politiche ambiziose che contribuiranno a proteggere e a dare potere ai cittadini nel mondo digitale. Promuovere le competenze digitali, investire in una infrastruttura sicura e funzionante. Sono solo due esempi. La conferenza sul futuro dell'Europa può essere un'opportunità ideale per i cittadini, di dare la loro opinione su questi temi, di contribuire a plasmare l'Internet del futuro. Il Parlamento europeo si assicurerà di difendere i loro interessi, di lottare per una digitalizzazione che metta le persone al primo posto.